Il pallone è spazzato via bene dalla difesa Rijkaard riconquista il possesso Può metterla da lì Pronti via ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria Un approccio che sembra aver funzionato Ha concluso a botta sicura, era difficile non inquadrare la porta da lì Vabbè, c'è chi ha fatto anche peggio, non è il suo caso però Hanno aperto le marcature con questo gol